Quanto si guadagna su YouTube? O meglio, quanto ho guadagnato io su YouTube con 25.000 visualizzazioni? Scopriamolo in questo video. Eccce a tutti ragazzi, qui c'è un buonissimo video, io sono Credox e oggi ho raggiunto le 25.000 visualizzazioni su YouTube. Ed ho deciso di fare questo video per spiegarvi quanto si guadagna su YouTube, quanto ho guadagnato su YouTube e quanti moni 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 soldi ho fatto su YouTube in questi 5 anni. Prima di tutto iniziamo con questo screen. Come potete vedere ho raggiunto e superato le 25.000 visualizzazioni. E secondo la leggenda delle 1.000 visualizzazioni e 1 euro, io avrei guadagnato ben 25 euro. In teoria, perché se andiamo dalle mie analitics e vediamo le mie entrate, non solo degli ultimi 20 giorni, non solo degli ultimi 90 giorni, ma dell'intera durata del mio canale che sono quasi 5 anni, possiamo notare che il mio guadagno stimato è 1 centesimo. 1 centesimo. Dopo 5 anni e dopo più di 200 video che ho fatto. Ebbene sì, questi sono i miei guadagni. Ah, fesso! Soldi, 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 ma dove sono i miei soldi? Dove sono? Dove sono? Tutto lo sforzo dove sono? Dove sono i 1.000 iscritti? E a proposito dei 1.000 iscritti, perché ho nominato i 1.000 iscritti? Perché i 1.000 iscritti e le 4.000 ore di visualizzazione nell'arco degli ultimi 12 mesi sono i requisiti minimi per avere la monetizzazione attiva. Ed io, proprio questi i risultati, proprio sono... Tantano, poco chilometri, proprio anni luce. Perché ancora non ho raggiunto neanche i 500 iscritti, né tantomeno le 4.000 ore di visualizzazione. Infatti, come potete vedere dalla mia schermata, io ho raggiunto le 400 ore. Cioè, quindi sono a un decimo, quindi ancora c'è molta di strada. Però attenzione, i più attenti di voi avranno dato una cosa, ma come fai ad aver guadagnato un centesimo se ancora non hai attivato la monetizzazione? Beh ragazzi, perché praticamente io l'avevo la monetizzazione, perché prima del cambiamento nel 2018, la monetizzazione era per tutti e tutti potevano guadagnare. E io non l'ho mai attivata. E quando l'ho attivata, un mese dopo è entrato in migliore questa cosa. Bello schifo. Cioè, perché io giusto giusto attivato la monetizzazione, un mese dopo, ma neanche un mese dopo, forse una settimana dopo. Boom. Limite. Quindi, se pensate di fare soldi con YouTube, state sbagliando completamente strada. A meno all'inizio. Poi, ovviamente, se uno diventa famoso, fa migliaia di iscritti, migliaia di visualizzazioni, poi là è un'altra lanciata di maniche. Però, a meno agli inizi, quindi i primi due o tre anni, proprio scordatevi completamente soldi. Cioè, proprio non ne vedrete mai. Ma proprio zero, proprio zero. Anzi, io ho malappena fatto un centesimo in questi cinque anni, quindi, proprio scordatevelo. Quindi questa era la mia breve storia su YouTube, o meglio, la mia breve, brutta storia dei guadagni su YouTube negli ultimi cinque anni, ragazzi. Ricordiamo cinque anni. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, per supporto, almeno arriviamo ai mille iscritti. Iscrivetevi al canale, lasciate un like. Condividete il video con qualche vostro amico che è curioso di sapere quanto guadagno uno YouTuber, non grandissimo. Non gli fate lo spoiler di zero, perché sennò voi, poveretto, vi distruggete i sogni. Ma lasciando stare ciò, noi ci vediamo in un prossimo video. E... Ciao a tutti!